Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, finalmente parliamo del topolino numero 3489 con questa splendida copertina disegnata da Corrado Mastantuono e colorata da Andrea Cagol ritraente appunto il ritorno della serie Paperbridge sulle pagine del topo scusate se non ho fatto la mia solita introduzione come anche nell'ultimo video ma appunto per recuperare, per risparmiare tempo ho preferito fare così e poi non sono neanche nelle condizioni più ottimali per farmi vedere perché sono un po' scassato dopo le ferie, un po' di raffreddore, mal di gola infatti si sentirà anche una voce un po' molto bassa rispetto al mio solito che comunque già non è tanto alta comunque iniziamo subito con questo bel topolino che ho divorato vediamo un'anticipazione sul topo principe che uscirà dal 12 ottobre peccato, separato in due episodi sarebbe stato bello averlo tutto su un unico topolino però vabbè e poi Chiara tira a Paveropoli dai a media smettila con questa storia della magia e dimmi per leggere il futuro che app devo scaricare di Silvia Zicker, sempre carinissima qui abbiamo l'editoriale del direttore Alex Bertani che appunto ci introduce alla nuova stagione di Paperbridge e appunto ci dice anche che presto ripotremo leggere il topo principe sul topolino perché era stato pubblicato originariamente sui volumi dell'Aggiunti e poi ritornerà anche Tito Faraci con gli allegri mestieri di Paperino con i disegni di Enrico Faccini Enrico Faccini come ho detto nel video scorso sarà molto prolifico sul topo in queste settimane e poi ci saranno tra due settimane due storie evento una dal grande Giorgio Cavazzano e poi ci sarà un'altra storia inventata un interessante sito archeologico pane per i miei denti l'archeologia quindi non vedo l'ora di leggere più informazioni a riguardo o meglio di leggere direttamente la storia iniziamo subito allora con Paperbridge soggetto sceneggiatura, disegni e supervisione colore di Marco Gervasio la notte del vandalo in questo caso qui abbiamo un atto di vandalismo che si ripercuote all'interno del campus di Paperbridge e viene incolpato il povero Tommy qui vediamo o almeno non so se l'ho notato solo io o se ricordo male che è stato cambiato il design di Beth forse nei capelli, non lo so però non mi fa tanto impazzire sembra molto più cattiva non lo so mi dà questa sensazione mi sa più di malvagia Beth in questo caso la preferivo prima sempre se mi ricordo bene può darsi pure che è un vaneggiamento del mio cervello e Beth era fatta così anche prima però secondo me è stata cambiata di design comunque tutto questo episodio si rifà appunto a cercare il vero colpevole che ha imbrattato la statua di Quaquerone qui possiamo vedere il Lord Quaquerone qui vediamo che il povero Tommy insomma ha proprio le mani nella marmellata come si suol dire però alla fine scopriremo chi sarà il vero artefice di questo misfatto storia molto carina che si vedrà appunto chi sarà l'artefice nel secondo episodio alla fine è una storia articolata in due tempi in questo caso è il sogno di Beth a cui è stato rovinato anche un quadro dallo stesso artefice che ha vandalizzato la statua di Quaquerone un quadro che lei doveva far vedere a un emissario di una scuola d'arte di Vienna che però appunto non potrà più mostrarglielo e quindi non potrà più vincere questa borsa di studi per andare a studiare a Vienna e qui anche scopriremo alla fine diciamo quello che succederà e vediamo anche diciamo il lato introspettico di Quaquerone davvero molto 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 bello andiamo avanti con Scacco Matto a Topolino terzo episodio di Giovanni di Gregorio e testi e Ottavio Panaro e disegni vediamo che l'esperto di scacchi assoldato dalla polizia non riesce a venirne a capo e non vi spoilerò molto vabbè vi spoilerò giusto che alla fine si dimetterà ci sarà un sostituto però abbastanza valido che non vi dico poi proseguiamo con Pioggia, pioggia che cadi di Enrico Faccini e testi e disegni davvero poetica riguarda appunto Pluto a cui piace uscire nelle giornate di pioggia che però si ritrova un imprevisto ovvero un povero gattino che è in pericolo e così Pluto corre da Topolino per farsi aiutare appunto a salvarlo davvero una storia breve ma molto bella e toccante e poi abbiamo Viaggio nella Luna il secondo episodio di Bruno N. Testi e Alessandro Pastrovicchio e disegni davvero molto molto bella come storia anche così come la prima parte qui vediamo l'incontro con i nostri paperi con la popolazione locale della Luna tra cui Brigitta e alla fine scopriremo così come avevo sospettato era un mio sospetto che però non vi ho detto che praticamente questa Luna non è la nostra Luna ma grazie alla Gravolite i nostri sono riusciti ad andare in un'altra dimensione e quindi ci si preannuncia che uscirà una prossima storia che invece di andare sulla Luna andranno sul Sole di quell'altro sistema solare insomma con l'altra dimensione abbiamo una posta dei lettori abbiamo un'anticipazione appunto sul topoprincipe meno male che non l'ho comprato in edizione giunti avrei voluto comprarlo però a sto punto visto che esce sul topolino non lo compro più vediamo quello che uscirà appunto questa settimana in edicola ovvero il nuovo numero dei classici guai fantastici come evitarli con frame story di Silvia Zic ricordiamoci l'ultimo volume di paper fantasy se non sbaglio è paperinic che prenderò insomma questi tre li prenderò insomma ragazzi questo era il numero 3489 poi abbiamo un'anticipazione sul 3490 con per l'appunto topoprincipe episodio 1 di 2 gli allegri mestieri di paperino corriere paperoco è il diabolico dottor puff puff zo paperone è il pioniere del risparmio scacco matto topolino episodio 4 di 4 e zucche vuote lupus in favola vabbè questa alla fine dovrebbe essere la strip story finale quindi abbiamo un enrico faccini onnipresente sul topo poi abbiamo appunto la strip story di questo numero minima paperalia il naufrago finiamo paperino naufraga su un'isola piccolina deserta dove cercherò un telefono che gli dice che come milionesimo cliente ha vinto una crociera ai mari del sud ragazzi questo era il topolino 3489 fatemi sapere cosa ne pensate sono riuscito a rientrare in pari ci vediamo presto con il prossimo video cercherò di far uscire quanto prima la mia top e flop appunto del mese di settembre e gli acquisti di settembre con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao